Partita! A largo prova a prendermi in giubba azzurrina con le maniche cap blu scuri che è in vantaggio. In seconda posizione galoppa Indian Elysée in giubba bianca con le cap verde. Al terzo di fuori avanza Chiara Blu in amaranto e avorio. Ha scavalcato Camomilla Esterica che è quarta con le cap giallo affiancata a largo di tutte dalla stessa Edge of Passion con i bracciali che ha superato Boccacine alla Dormegliana che ha in scia per vie larghe Salar Arte in giallo e azzurro e all'interno Ciocio San con le altre maniche verde. Che vale che in quest'ordine si accingono a compatere la piegata che mette in retta d'arrivo. Alle prese prova a prendermi di fuori Indian Elysée all'interno. Chiara Blu che le segue da vicino con le prime tre che hanno preso qualche lunghezza di vantaggio rispetto a Edge of Passion che si affretta a recuperare avendo in scia Salar Arte che si sta profilando a largo di tutte. Siamo in vista del paletto di 400 con prova a prendermi che è sempre leggero vantaggio su Indian Elysée all'interno. Salar Arte a largo di tutte su Chiara Blu e Edge of Passion. E ancora davanti prova a prendermi di nome di fatto ma le avversarie si avvicinano soprattutto sotto Salar Arte e Edge of Passion tra le cavalle. Prova a prendermi all'interno su Salar Arte e Edge of Passion. Arrivo serrato a tre cavalle con Salar Arte che piomba sulla sua avversaria che resiste. Nell'ultimo tratto Salar Arte che di giustezza sopravanza e stampa. Prova a prendermi. Al terzo è ancora Edge of Passion sulla compagna Chosho San. Salar Arte da favorita non delude Claudio Colombi che colpisce per la scuderia diamante ai colori e Sior Grizzetti al quick double al training. Grazie. Grazie.